Stamane alle ore 11.30 presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Gian Giacomo Ciaccio Montalto, nell'ambito del progetto Legalità 3 novembre 2021, si è svolto un incontro con gli autori del libro per ragazzi dal titolo Rosario Libatino, la lezione del giudice ragazzino. La nostra scuola lavora già da anni ad un percorso sulla legalità, proprio perché crediamo fortemente nell'importanza di dare ai ragazzi il giusto esempio di trasmettere dei valori che sono quelli della legalità, della correttezza, del rispetto dell'altro. Per cui questa iniziativa di oggi si inserisce appieno nel percorso sviluppato, entro cui poi si inserisce il nostro progetto di istituto, che è il progetto dedicato al giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto, il progetto Mi chiamo Gian Giacomo. Scritto da Lilli Genco e Monsignor Alessandro Damiano, il libro, edito da Di Girolamo, presenta anche un glossario sulla legalità, un pensiero ai ragazzi da Papa Francesco, la biografia del magistrato di Canicattì, assassinato 31 anni fa su una strada provinciale ad Agrigento, ed altri interessanti approfondimenti. Ascoltiamo le parole degli autori. È un volume per ragazzi della collana di Girolamo Junior, i giganti, che è dedicata proprio ad alcuni personaggi che hanno vissuto la loro vita al servizio della giustizia e della legalità. Abbiamo già realizzato i libri su Don Pino Bullisi e su Don Peppe Viana, i cosiddetti martiri della giustizia e martiri del sud. Mancava Rosario Livatino, abbiamo approfittato, tra virgolette, per la pubblicazione, l'occasione straordinaria della sua pubblicazione il 9 maggio scorso. I due protagonisti sono due ragazzi che attraverso Rosario Livatino, incontrato per caso in un progetto scolastico, scoprono cosa significa mettersi in gioco e scegliere da che parte stare. È una figura che nel mondo della laicità ha in qualche modo incarnato il battesimo nella dimensione della ricerca della giustizia, questo è il filo portante. Per questo, dopo un'ampia riflessione, dopo le procedure canoniche da seguire, il Santo Padre Francesco ha voluto proporlo a tutta la Chiesa Cattolica. Quindi la legalità intesa come valore cristiano. La giustizia intesa come valore cristiano e la giustizia si pone al, a me piace dire, al piano superiore della legalità. Sappiamo bene infatti che alcune leggi che quindi sanciscono la legalità non sono però giuste. Per cui è la giustizia che, come dire, sovrintende alla stessa legalità ed è sempre una fatica di cercare la giustizia. Insomma, un libro che pone i piccoli lettori, ma non solo, nella condizione di crescere scegliendo da che parte stare.